... Secondo i nostri sondaggi, il 60% delle coppie che vivono una relazione clandestina corre quotidianamente il rischio di farsi scoprire, soprattutto quando sono sul più bello. Come ci insegnano le migliori commedie, sono tantissimi gli amanti che si sono dovuti nascondere sotto il letto o nell'armadio per non farsi beccare. Noi di Gliden, che da oltre dieci anni garantiamo ai nostri iscritti la più assoluta discrezione, abbiamo trovato una soluzione anche a questo problema e siamo orgogliosi di presentare un armadio che grazie al suo doppio fondo cela un nascondiglio dotato di ogni comfort, dove gli amanti possono aspettare in comodità che si calmino le acque. Immaginate soltanto quante situazioni spiacevoli saremo in grado di evitare grazie a questo armadio. Non sarebbe bello se un oggetto del genere esistesse davvero?